buonasera abbiamo iniziato per paolo e lila ciao grazie titoli punti marito e moglie fiamme sessione doppia sulla fiamme e su lila perché quella su paolo l'abbiamo già fatto 5 4 3 2 1 io le mani roventi ci sono paolo e lila se ss danno l'autorizzazione tanto paolo ti informo che la tua immagine quasi sempre bloccata è molto sgranata quindi questo lo vedrai poi nella registrazione che l'immagine sgranata ma spero che tu mi senta non mi senti bene te la danno se 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 benissimo causa esoterica di questo improvviso calo di connessione che non ha una spiegazione logica di nessun tipo oggi è l'inizio di un lavoro molto forte molto potente è come se io vedo che vedremo delle cose importanti per la nostra ricerca è la prima volta che facciamo questa cosa va bene quindi chiamiamo 300 milioni di fiamme tutto intorno a noi quando sì quasi bloccano tutti sembra di bloccata perché vedo una cosa vedendo una cosa molto particolare quindi mi dimmi allora prima ho visto c'è prima immagine loro due allora quindi la fiamma c'è da loro ps che è la stessa quindi questa sfera viola blu ok c'è una sfera un mezzo e di loro corpi alle loro immagini c'è il loro corpo praticamente fa da contorno alla sfera ok quindi come se fossero uniti dalla sfera quindi i loro corpi con in mezzo la sfera che vi unisce sospesi sospesi in aria diciamo sopra che guardano sotto e abbiamo paolo che non ha interferenze ci sono le interferenze che cercano di interferirlo che sono un po distanti ok e le interferenze di lila che sono attaccate devo dire molto da un filo molto fine sono tre ok sono giù sono basse c'è proprio si vede la differenza di vibrazione ok sono basse sono attaccate appena appena lila da questi tre fili ancora c'è sarebbero riusciti da soli lavorando assieme a staccarle da soli i 300 milioni di motivi poi quando hai chiamato noi e 300 milioni di sciamme loro si sono girati verso di noi ok noi siamo arrivati qua la mia ps molto grande una sfera viola e blu molto grande la tua anche alla loro pari sempre sospesi in aria e le 300 fiamme a fare un mega cerchio intorno a noi tutte unite come un disco intorno a noi tu nelle 300 milioni vedi la tua se lì davanti in prima fila vedi la mia davanti in prima fila sì sì dopo parliamo ok sia o meno vicino vicino alla tua ok alziamo già subito le frequenze creiamo un forno paolo ha suggerito di creare un centro di trasmissione energetica magnetica per fiamme come visualizzi questa frase questo 100 è quello che stai vedendo essi alla fine si si è creato da solo è proprio quello che si vado a vedere allora prima quando lo diceva mi è arrivata un immagine di cioè sostituendo noi e le fiamme l'immagine che mi era arrivata prima era di una delle due sfere in mezzo con delle specie di pacchette no ok ma se che sto vedendo la stessa cosa è presente la ruota di una bicicletta se c'è un cerchio un copertone il cerchio ne c'è un centro e ci sono dei raggi adesso i raggi non ci sono ancora esatto 100 siamo noi quattro se i 300 milioni meno 4 sono intorno e intorno e noi usiamo noi serviamo da fulco come il centro della volta della bicicletta immaginare quindi la ruota il copertone è una sfera di copertone noi siamo un fulco ma siamo una sferetta e i raggi sono a tutti i livelli cioè a 360 gradi insieme ogni raggio che passa attraverso di noi e va dritto dall'altra parte unisce a due a due le fiamme eccetto paole lila che sono nel fulcro e tu che hai un mezzo raggio con e io con se viva fiamma che abbiamo solo mezzo raggio non sento il diametro è questo ma già prima quando lui lo diceva c'è condotto male di scritto quando il mio di scritto su ho immaginato no esatto una cosa di materia con questa sfera questa sfera e mezzo con questi con queste bacchette no che che attraversavano queste sfere e questo disco di trasmissione e poi si è creato con noi io ho i brividi tanto e non mi è mai tanto successo infatti ma questa cosa suggerisce che che aumenta la voglia dell'incontro delle fiamme da tempo e mezzi opportuni per l'incontro livella le vibrazioni accelera l'incontro tutto riassunto accelera l'incontro anzi era da li abbiamo messi tutti in contatto se no di dentro non ci può entrare niente sì ma sai che abbiamo le tre categorie quelli indecisi quelli che sono ancora di là da venire e quelli fatti e finiti quelli fatti e finiti sono pochi la categoria di mezzo che sono un po indecisi sono abbastanza ma la maggioranza sono quelli che non sanno neanche come stanno girati ma che sono tutti connessi adesso sono tutti connessi si connessi come si chiama questa cosa lui l'ha chiamata centro di trasmissione energetica e magnetica tu come la chiami più riassunto ad accor the core il cuore il centro il nucleo fu il decoro causa esoterica dell'immagine bloccata di paolo adesso sta vibrante troppo alto ha fermato la vediamole le due vibrazioni prima paolo poi lì la vibrazione arriva i valori su paolo sta vibrando a 1100 miliardi lila no paolo si lila di la 520 ma consapevolezza uno e l'altro 245 paolo e ne la 180 solo la ps così semplifichiamo uno e l'altro in questo momento sono 87 tutte e due fiamme ovviamente no sì 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 i precedenti ma paolo adesso 628 lei lì la 2011 cervello 11,4 paolo 10.2 va bene concentriamoci su lila interferenze i famosi tra fili e te riche mentali mentale ce n'è una di livello è una un po alta e livelli di livello 5 è un blocco il blocco la blocca completamente come se la bloccasse in un suo mondo come se lei si quando vuol fare qualcosa per esporsi nel mondo in qualcosa dove non conosce cioè io la vedo nel suo ambiente e la sua nazione è molto libera molto fluido c'è fa fluida esatto fa comunica in libertà soprattutto nel posto suo paese proprio paese che c'è credo questo paesino dove a cui lei viene e via ma appena c'è qualcosa di nuovo qualcuno di nuovo un posto nuovo e così c'è questa entità mentale che la blocca la blocca e la blocca proprio come se lei vedesse il vuoto e non sa cosa fare quindi si ritira sta nel suo ambiente ecco questa l'entità mentale l'unica che vedo basta solo questo ed è te rica perché c'è un falco uniforme che è quello che ha visto paolo aveva visto paolo con lo giallo ma se lo carezzava niente se e dell'interferenza di riva basta e poi c'è una mantide basta e di al 1 che è la comunicazione tra la mantide l'entità mentale di velo 5 cioè fare tramite bene e impianti però quello al seno era un impianto ma è stato neutralizzato dalla sua ps già da tempo ce ne vedo uno eterico qua a livello più o meno tra dove c'è la vertebra c7 quindi sotto al collo diciamo che è collegato a uno mentale che è sei una sfera tipo ha presente il porta spilli che ha tutti gli spilli incastrati ecco una cosa così che appunto collegato quello che c'è a livello della c7 la vertebra è è quello che fa sì che lei venga si blocchi quindi l'entità mentale insieme alla mantide e questi impianti fanno sì che lei la si blocchi proprio quindi anche fisicamente la fermano che hanno vuoto e non sa più dove andare non sa più come fare per muoversi poi e poi ne ha due sotto le piante dei piedi una destra una sinistra al centro proprio basta causa esoterica della stitichezza e lo vedo un blocco anche quale se c'è a livello fisico bloccano tutto dai piedi fino a qua ecco tanto quello dei piedi e quello cervicale e quello mentale bloccano tutto bloccano anche appunto l'intestino anche gli organi proprio mestruazioni dolorose allora quando mi è arrivata questa immagine quando era quando ha iniziato avere le mestruazioni quindi che le ha avute più o meno intorno ai 13 anni più o meno vedo da qua quando inizia quando ha iniziato il suo ciclo c'è stata questo siriano questo siriano si siriani perché uno l'ha fatto ma vedo durante un abduction è come se ne avessero strappato l'utero dalla dal corpo in eterico in eterico si eterico anno è come se avessero lì in quel posto una stampante tipo una stampante 3d capi cioè tipo come se avessero con delle energie fatto con un ologramma ricreato su utero e poi rimesso la cicatrice braccio destro cheloide allora hanno provato a mettere un impianto quando ha avuto il trono per cui ha fatto gli hanno fatto la cicatrice e c'è la ps che le getta questa roba è molto superficiale c'è tipo una piccola striscia c'è potremmo dire in metallo che però non non ha mai è proprio inerte perché la ps la inglobata e continua a lasciarla lì non riesce a entrare non so se le hanno messo le graffette ma come se le graffette poi avessero creato questo in eterico e vedo che è come se le graffette che li hanno messo avessero creato questo questa barretta di metallo che era poi l'impianto che loro volevano utilizzare ma che non sono riusciti a ma chi questo l'ha fatto sono l'identità che non ci sono più sì sì esatto ed erano allora vedo sempre questi di anni la con un rettile con dei rettiliani erano questi riani dell'utero sì che erano quelli che facevano le abduction principalmente non ci sono più le eliminate già da un po ok denti gengile sensibili allora è una conseguenza indiretta direi del del blocco che ha del blocco che l'entità mentale di livello 5 e l'amantite le fanno perché come se le non avesse la via questo vuoto che le viene creato fa sì che lei non riesca a trovare la via per muoversi e quindi è come se le mancasse sempre quello di afferrare con i denti con le gencine con la bocca quello che sta cercando perché lei parte poi vuoto totale bloccata e non riesce mai afferrare quello che che sta cercando ecco ma ci sono i pianti lì no 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 è solo una conseguenza indiretta anche oggi infatti stavo guardando molto meno diciamo che solo adesso allora se fa delle cose con paolo va molto fluida perché non riescono a spariscono le interferenze quando fanno quando le fiamme fanno le cose assieme le interferenze non possono fare niente quando lei da sola che deve prendere più che altro una decisione vedo adesso ormai è solo quella parte lì oppure lo vedo molto anche per imparare le lingue no è come se lei rifiutasse a priori per esempio di imparare l'italiana perché come se si mettesse c'è al vuote e è proprio bloccata no e quindi in quei casi lì in quel caso lì a questi blocchi amici stessi seno sinistro si era un vecchio impianto che è stato inglobato grazie alla ps e neutralizzato a cosa serviva faceva parte sempre di quel programma dell'utero con l'utero utilizzavano per prendere diciamo le formazioni vibrazionali femminili potrei dire allora riprodurre l'utero e succhiare dalila le informazioni vibrazionali riguardo tutta la parte appunto di degli ormoni tutta la parte vibrazionale rispetto al al sostentamento del bambino che tutte queste informazioni qua vedo proprio dalla dalla seconda azione fino alla nascita e l'allattamento e ne volevano prendere tramite le vibrazioni degli ormoni e della e della parte anatomica sogno seduttore di un seduttore che lei neutralizza e picchia da qua c'era diciamo che quella interferenza sotto forma di seduttore è stata mandata da moloch ha detto sacrificio sessuale in eterico ma lei non è approvata a farlo ah no infatti infatti l'ha mandato via come è riuscito moloch a interferire una fiamma che è con la fiamma allora è stato un tentativo io vedo un tentativo allora è stato un tentativo di notte proprio durante allora c'è stato l'intervento della manti allora sono riuscite ad iniziare a fare questa abduction ok per creare questo sacrificio sessuale ma la pss svegliata al tempo quindi in eterico proprio preso cazzotti questa interferenza sotto forma di di belloccio vai dimmi no invece le altre le altre donne che erano di a guardarla che ne hanno applaudita no sono state c'è interferite completamente hanno subito sacrificio sessuale sono altre persone l'ultimo ipotiroidismo che la comuna a paolo cioè c'erano tutti e due basso funzionamento datico sì sì sto cercando il collegamento allora vedo questa nella loro parte c'è proprio questa informazione all'interno della loro ps ok che che realtà non riguarda proprio l'ipotiroidismo nel senso vedo questa se io vado a cercare le informazioni vado cerco di leggere le informazioni nella loro ps formazione di esperienze non è la loro ps evato vedo questo tipo questo cerchio che è dedicato appunto a questo fenomeno a questo sintomo ok e in realtà non è c'è se io le conosci scritte il portiroidismo c'è scritto un come se sento una roba molto forte è come se sperimentassero di far funzionare una parte del corpo con la stessa vibrazione all'unisono ok so cercando di capire cosa succede anche con le altre fiamme sto cercando di andare a vedere per capire perché in questo caso vedo questa cosa vedo è proprio un tipo di funzionamento fisiologico diverso dalla norma è come se creassero questa informazione assieme per sperimentare però questo vedo come un canale ha degli effetti negativi sulla loro no è quello che gli dicono non c'entra nulla vabbè poi su questo io vabbè so anche dei concetti nel senso che la mia tesi di cinque leggi è proprio su questa cosa ipotiroidismo ma no è solo un loro è come se mettessero assieme le loro esperienze di funzionamento della tiroide e facessero passare il circolo degli ormoni vedo proprio un canale che passa attraverso la loro tiroide che quasi la sovrappone sovrappongono le due passa questo canale ok e fanno funzionare la fanno funzionare in maniera diversa dal solito per vedere la potenza è come se li dovesse lavorare di più e quindi diciamo anche anche il fatto che ci sia il gozzo è dato da questo movimento molto molto attivo che loro fanno assieme insomma è un lavoro di fiamme a livello energetico se il nome del progetto di lila che l'entità su lila trans femminismo perché perché il loro tentativa di riprodurre la nostra riproduzione l'apparato riproduttivo femminile ebridato con loro nome della ps di lila e quindi anche di paolo multimoduli mi fa vedere questa immagine di più sfere insieme che lavorano e girano e mi dice multimoduli no è come se è come se volesse dire che ogni aspetto della vita di uno e l'aspetto della vita dell'altro che sono dei moduli volette fossero uniti poi ruotano assieme continuano a ruotare assieme e quindi fanno questi la ps diventa un multimodulo perché ha tutte le informazioni di tutte e due che continuano a girare e a scambiarsi vedo proprio questa cosa può un po di movimento così così e poi escono le esperienze nome della piedi lila cardenia gardenia di paolo stella alpina va bene chiamiamo i disincarnati di lila tutti i parenti di tutte le generazioni intanto apre il totale aureo e di special modo la madre e la sorella di lila allora la madre vedo proprio che ha preso un accordo con la ps s certo punto era talmente stanca dalla fatica della vita proprio della vita quotidiana quotidiana di tutto questo carico di tutti questi familiari che ha preso un accordo con la ps s adesso basta io finisco qua e la sorella la cosa che ha detto appena arrivato ha detto grande lila complimenti mi hai sostituito in maniera grandiosa era una sorella maggiore allora forse aprirò a livello eterico c'è stata proprio la sostituzione cosa vuole dire la madre ma lì la è affascinata da da quello che vede a livello energetico di lila con paolo è affascinata da da questa violazione altissima di loro due che quasi la cieca se c'è stata grandiosa riuscire a riuscire a uscire dal dalla realtà dove sei nata è arrivare dove sei ora la madre è legata alla terra si chiamate la vedo legata a questo campo di può essere di canna da zucchero non lo so di una qualche coltivazione se lì dove si è abitato se e la sorella la sorella allora a distanze come se avesse osservato lila a distanza per tutta la vita cosa ha trattenuto queste due donne sulla terra i pensieri dei vivi il ricordo quindi diciamo che sono state interferite se vuoi si si interferite si è con allora dai vivi dico le parenti sì allora per quanto riguarda la sorella è stata legata dal dall'interferenza della mamma che la ricordava e lari cercava di riprodurla in lila la mamma dal questo retaggio direi della sua famiglia d'origine quindi genitori soprattutto il papà della mamma che ha vedo questa ricorrenza di questa frase dove il lavoro la fatica erano un onore e quindi lei si ricordava primi anni della sua vita fin da quando era bambina fino a poi fino a quando è riuscita a lavorare la vedo china su questa terra ed è legata molto al retaggio famigliare del padre che inculcava nei suoi figli questa cosa della terra per lavorare la terra ok lo vedono il puntale aureo si sanno cos'è allora la mamma vedo che allunga la mano e sente l'energia e e prende le informazioni dall'energia quindi ora sa cos'è un po come la sostituzione della vita potrei dirti questo gesto volevo dargliela ma l'ha fatto da sola esatto perché fa che prende consapevolezza con la mano nel portale aureo la sorella adesso vabbè sta per fare uguale perché ha visto cosa ha fatto la mamma ma prima vedeva la vibrazione molto alta ed era attirata ecco ben curiosivo adesso ha fatto uguale al momento dei saluti le dice con questa con la consapevolezza dell'energia del portale aureo adesso non sono più accicata da quello che hai fatto ma e mi è tutto molto chiaro e grande si è stata grande e bello per te questa cosa sono felice per te la mamma le dà un abbraccio e la sorella senti molto alleggerita e dice sarebbe stato bello fare l'esperienza con te come in vita in quel senso le salutiamo allora sì 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 vanno nel portale aureo dimmi quanti ne vanno come parenti 97 fino a quale generazione è non tante fino alla terza perché gli altri sono già andati o perché ci sono poche adesioni non è tantissimo 97 poi la famiglia di libera molto è fatti sono proprio pochi se non ci sono state tante adesioni è come se fosse un momento dove si sentono ancora impegnati legata a sostenere i viventi gli altri pensano ovviamente di essere a sostenere i viventi uno sceglie per sé se comunque 97 97 compresi madre e sorella 99 con loro chiudiamo il portale aureo ok passiamo un attimo ce la fai su paolo poi puoi poi ok può ancora sì come come un po ancora sì ok ci sono entità eteriche mentali no 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 avevo già visto prima cercano di avvicinarsi come se sei le mosche quando si avvicinano a quel coso che a quella lampada che fa che le brucia se ecco allora cercano di avvicinarsi ma vibra troppo alto perché si accorge lui si accorge consapevole quindi accorgendosi già alza le vibrazioni poi le alza di più e quindi se toccano vengono fulminate quindi si avvicinano poi se ne vanno a causa esoterica del fatto che si morde l'interno della bocca a causa esoterica anzi direi che è quasi è come se a volte è in questo momento di passaggio come se a volte la ps facesse fare questo gesto per riportarlo un po sul concreto viva come se a volte vibra troppo sta troppo con le vibrazioni alte per la per la matex per stare qua e quindi la ps lo riporta un attimo proprio giù un po giù a volte è troppo eccessivo episodio del sangue allo scoto allora diciamo che la che è stato provocato con l'intento dello svuotamento del palazzo genitale che le hanno mandato se santeria sì sì santeria conseguenze attuali l'ho alzato le frequenze potessi alzato le frequenze sistemato sogno falco ha visto il falco della moglie se sogno strega allora era era un'amantide che ha provato ad apparire come strega come cercando di essere cattiva e aggressiva ma per cercare di rinterferirlo ma se ne ha accorto a confine è come se cercassero vedevo già prima mentre lo spiegavano è come se cercassero di entrargli dalla testa c'è netterico vedo come se avessero un piccolo trapano che provano a fare da qua ma lui appena inizia non si accorge che andava il fegato grasso allora una risposta fisiologica di aumenta aumenta la funzione epatica in quel momento l'attivazione del fegato in quei momenti lì è come se dovesse reagire a qualche emozione che vive lo vedo in qualche nelle situazioni in cui a cari delle conversazioni dove c'è in dubbio un po il suo dubbio i suoi avvieri dove c'è incertezza rispetto a a ciò che gli appartiene non so se è stata chiara mi sappiamo allora vedo in eterico vedo questo c'è lui che ha una conversazione dove parla normalmente così magari esce diciamo questo problema questa problematica questo quesito che che deve risolvere che deve chiarire rispetto a ciò che è di sua proprietà o dei suoi averi o qualcosa che gli appartiene ok quindi questa emozione di incertezza di questo quesito rispetto a qualcosa che gli appartiene fa sì che il fegato debba lavorare di più si attiva di più e lavora di più quindi in quei momenti di e così poi quando risolve torna la suo lavoro normale quindi è più una reazione emotiva che chiedica ma le precedenti causa esoterica del fatto che da diversi minuti è completamente caduto della linea mi scrive che non riesce più a connettersi preferenze bla bla se quello di piense se si assalta roba e abbassare un po le vibrazioni anche ok la casa che gli hanno dedicato nella shram la vuole abbandonare fa bene fa male allora lì c'è l'energia della shram quindi tutta quella energia che mettono sempre in piedi in un ashram no quindi questi canali enormi energetici dove sono lì a prendere energia di tutti è tanta roba lui quindi ti hanno dedicato una casa apposta per tenerlo lì per poter mollare va bene sì ma andava bene perché lui anche perché lui già per c'è già per il fatto che sente che la deve mollare le vibrazioni sarebbero ancora più basse cioè riuscirebbero a prendergli ancora più energie incastrarlo ancora di più ecco quindi assolutamente cioè dovrebbe proprio essere isolarla completamente da tutto che l'energia ma dentro un'altra no attività lavorativa fissa in italia che non si può spostare venderla sì o no quindi di fatto stare o non stare in italia lui si domanda allora proprio non esserci per io vedo che lì nella sua attività ci vuole la sua energia non sarà uguale senza di lui non sarà la stessa attività come avevamo già visto l'altra volta mi ricordo adesso e lo vedo adesso due diventa e come si diventasse un tutt'uno con quello che fa col prodotto che crea e è solo lui lo sa fare così quindi non sarà non sarebbe uguale però se lui se lui accesse per lui va bene questa cosa nel senso che se non è può essere anche c'è non è che deve essere un problema al fatto che l'attività non sarà uguale perché non c'è lui quindi c'è la poli veramente vendere io non vedo non ci vedo problemi di interferenze o blocchi vendita della casa non ci deve allora sì no sì senza che ci metta il carico emotivo c'è carico emotivo intendo dire che in eterico vedo che lui la vuole vendere a chi dice lui con un'energia che dice lui così e l'orano la vende in maniera va bene venderla in maniera neutra se no ci rimane agganciato vedo cioè farlo fare a qualcuno che sa che gliela venda senza senza metterci la carica emotiva ecco perché lui è legato a questa casa è come io lo vedo legato lo vedo come se sente un'energia che deve andare a persone con la stessa energia lui pensa vedo che sente ecco va bene la merca bella piramide che ci ha fatto vedere sì no magari non lui ci può lo vedo le vedo molto bene per le piante per far crescere delle piante quelle due di quelle due cose che ci ha fatto vedere sono molto buone per andarci lui sotto no 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 non è più il caso riserva no non ci serve assolutamente no niente non riusci per entrare paolo non credibile e non so che farci va bene molto destabilizzante questa cosa ma bene insomma non ne posso non ci posso fare assolutamente nulla ok infatti entità rete richie quindi ne ha uno ne ha no 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 non non è edità mentali no la butta fuori però questa ce n'è una livello 2 che però butta fuori ma riesce a interferirlo per qualche ora l'incertezza la confusione dura riesce a interferirlo 45 ore e poi come se lui facesse così come se tirasse via proprio da qua il pensiero proprio tutta l'entità mentale con il titolo diciamo che incertezza indecisione confusione la prende e la toglie e la butta via e poi niente di quindi sa cosa fare a noi chiedeva verso in italia vado in oriente vado in occidente verso l'occidente vado in un paese spagnolo vado in indonesia cosa devo fare ha bisogno è un momento diciamo molto critico no sta venendo una casa deve andare a vivere poi da un'altra parte perché non c'è più la casa quindi lì vicino nei pressi in campagna in montagna all'estero quastringono la corda non è legato a questo paese allora c'è mi va non è talmente in questo momento molto varia è come se non fosse completamente il suo intento non fosse chiaro che ci sono io vedo sei possibilità diverse tutte però vedo vedo il mare o poco distante dal mare anche un pochino magari in collina un piccola montagna a poco dal mare aspetta un attimo è tornato paolo anche riassunto così te la godi bene abbiamo visto le case abbiamo visto la tua attività abbiamo finito i punti tuoi specifici non è che sia così importante poi lo vedrai adesso non ti faccio tutto il riassunto stiamo cercando di capire italia si italiano attività tua si qua no venderla a farla all'estero eccetera e vai elena dicevamo allora che ho trovato ti vedo benissimo super fluido non so cosa allora vedo che l'intento di paolo non è ancora ben fluido ben chiaro di paolo ma insieme anche a lila ok il loro intento deve per far sì che ci sia un posto preciso deve proprio essere sovrapponibile completamente perché essendo fiamme basta anche un minimo particolare e diventa un ventaglio di possibilità in questo momento ci sono 56 posti che però io vedo comunque o sul mare o comunque vicino al mare magari prima collina o una montagna bassa vicino al mare case diciamo il posto quasi sempre caldo perché mi appaiono le case se un po bianche tipo grecia opposti così quindi diciamo che se uno non è allineato cioè non è deciso e l'altro si uno l'altra quello che questa decisione non prende forma esatto insomma qui non si prescinde dal discorso fiamme no case non case italia non italia lavoro non lavoro tutto questo non può prescindere dal discorso fiamme e quindi interferenze tecniche di paolo 0 interferenze mentali 0 va bene tentativo della santeria ma non ce ne è fregato niente e quindi concludiamo vanno allora paolo non ha bisogno di andare al cluster lì lassi ci andiamo insieme ci vanno insieme una compagna l'altra l'altra e compagna il primo ma in realtà il cluster di pavone ciente da farla come lo vedi sì è come se fosse un enorme cerchio di legno c'è con un bordo di legno pieno di terra e la terra sono i suoi contratti tutte le vite ok vediamo quanto ci metto a togliere tutto e a mettere una d'eterno o quello che vuole lei qui messo ad eterno ma allora è come se ha creato un fiore direi fiori di loto no l'energia della d'eterno che poi è diventato tutto tutto il cluster si espansa la vibrazione diventata senza più forma si espansa in tutto il cluster tolto tutto messo se ok avatar andiamo a vedere anche quello di paolo è contemporaneamente quello di paolo c'è sì sì c'è sto cercando di capire perché ti vedo vicini c'è tornato l'avatar no l'avatar c'è la portazione si impostazione con lo slot insomma il posto esatto ma lui non c'è l'avatar non c'è di no 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 stata che c'è un meccanico però stavo cercando di vedere anche quelli delle altre fiamme perché sono vicini e mi è venuto il dubbio che si appiccini no cioè se avvicinano gli slot delle degli altri lo slot di scianco il box se gli uffici box esatto così esatto divisori pannelli alti mesi stessi a ognuno alla sua postazione quello di paolo c'è ma è vuoto se quello di lila dov'è ecco accanto sì sì c'è vicino no infatti si sposta quello di lila come è frizzato e mobile perché fiamma va bene abbiamo cose più importanti da fare più che stare a guardare questo frizzato quindi lila lo fuoco lo può fare da sola ma ne ha preso consapevolezza senza aiuti a si sia già perso volta definitivo e sta buttando via sta rifacendo il fior di rotto fatto se interferenze di lila mentale 5 c'è no falconi forme mantide 1 dl progetto trans femminisimo riproduzione di ok no vibrazione di lila 728 miliardi di paolo 997 bene che ha abbassato un po consapevolezza di lei su 216 di lui 338 ps di lei 76 76 vite di lei 921 di lui erano 600 886 cervello di lei 11 1 di lui 18 bene ok con queste condizioni possono tornare alla sorgente finita questa esperienza sulla terra ovviamente si scala e loro si devono però assolutamente mettersi lavora lavorare tra virgolette proprio per fare esperienze insieme incastrare le esperienze sai come abbiamo visto che stamattina no quindi le loro le loro esperienze le loro esperienze singole le loro esperienze singole unite insieme quindi che diventano complete e poi le esperienze assieme e questo crea consapevolezza aumenta proprio sì che questa sia l'ultima esistenza possibile a loro io per loro si non lo vedo quasi mai ma sì questo che può coltare per chiunque se uno lascia la terra prima dell'altro fiamme femminile se una fiamma lascia la terra prima dell'altra fiamma che succede niente l'importante nel senso che succede la ps non può tornare la sorgente quindi no 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 sì sì resta lì vedo che però l'altra persona che rimane diciamo in questa vita dura poco perché è attirata la è attirata la ps attirata e quindi che succede se male sì oppure si lascia morire incoraggiante come cosa però vabbè ne prendiamo atto insomma tutto molto va bene che altro messaggio si può lavorare al contrario nel senso a puntare proprio a rimata ad avere il proprio fisico quindi il corpo in questa vita è insieme esatto il più possibile messaggio di della psd lila lila la voler ringraziare si vuole ringraziare non so come dire brava grazie per avere lasciato fluire i segnali tali da far sì che tu potessi conoscere la tua fiamma così in maniera fluida quella di paolo a lui beh se non è finito questo messaggio stai lavorando molto bene stai lavorando molto bene come vibrazione si continua così insisto dice portare anche lila ad alzare l'imparare ad alzare le vibrazioni come te se no non funziona sennò rischiate di distanziarvi troppo lei non ce la fa starti dietro c'è lo hanno lo stesso respiro però adesso si si mette ricco lei nel metterico fa tutto uguale non c'è distinzione come se io vedessi come se vedessi dei fratelli sei mesi presenti quindi c'è questa sfera e il corpo doppio di lato bene stesso respiro respirino in eterico ma questo lo fanno anche dal vero il fisico insieme adesso si guardano uno di fronte all'altra mano nella mano e si lasciano un messaggio in eterico uno all'altro ma lei dice paolo io lo sento che sono te e paolo dice lì la mi viene vibrare ma l'immagine più un'immagine che una frase ma potrei dire vibrare ma non rende l'idea e lui dice io non posso far altro che vibrarti il senso è io non posso far altro che vivere diverti e vivere del diverti se c'è non diretti all'esterno figli artiati io ecco stesso ritmo di respiro di loro due stesso battito ci uniamo tu e dio elena che non siamo fiamme ma siamo fatti un figlio e speriamo e il nostro cuore batte all'unisono 24 siamo nel centro del core ok 300 milioni adesso sono una cosa bella la vibrazione sale e i 300 milioni quindi questa circonferenza che che in realtà è una sfera è il muscio di una sfera si allarga e diventa mille milioni un miliardo apriamo il campo delle fiamme più che triplicano i raggi di decor questa cosa non la facciamo solo noi tutti insieme i 300 milioni di fiamme che sono già tutte connesse si connettono a qualcuno che conoscono che non conoscono con cui hanno fatto vite precedenti fino ad arrivare a mille almeno milioni un miliardo dimmi cosa vedi sì allora c'è stato un primo momento sono che si è proprio se aumenta uno strato sull'altro no diventava questa spera esterna diventa sempre più spessa ok poi adesso iniziano arrivare un po più isolati proprio come se fosse un magnete ok adesso si sta fermando non dobbiamo escludere tutti quelli non possono agganciarsi quelli c raccati e mi spiace ma no certo si possono attaccare i cittadini baccati ma questi non ferma correttamente orientati a questa cosa che pensano che la fiamma sia l'amore romantico quelli che hanno sessuali confusi direzione giusta e quelli che non hanno il giusto senti che ecco qua il giusto coraggio e onore si è esatto la cdf la cdf coraggio decisione forza che dà onore non è una minchiata è deve essere una cosa che uno non deve neanche avere perché c'è dall'esterno deve fare per la giù esatto quanti milioni siamo arrivati i famosi mille che ho richiesto o di più o di meno no no mille milioni a un miliardo 15 miliardi 15 miliardi no è possibile però indice giardino ecco bravo si scusa si è giusto è infatti quando ha detto che dice guarda un miliardo e volte tanto di quello che era prima 300 milioni un miliardo e mezzo come vedi decor adesso the big corra respira e pulsa all'unisono con noi ottimo cosa fanno lila e paolo quanto stanno di vibrazione 20 mila miliardi portino ai fatti a quanto strano questa sera devono passare un po perché sa stasera ci saranno dei momenti dove saranno ancora a mille miliardi a mille miliardi devono passare allora una cosa sempre molto fuori diciamo dalla vita quotidiana però se proprio insieme devono stare intorno a 600 miliardi più c'è ogni tanto ma testarelli di più e troppo 600 è l'ideale tantissimo anno è per ricorda esatti stabilizzante è questa con questa costante frequenza uguale di 600 miliardi qualunque decisione materiale arriva lucida la pensano all'unisono case lavoro spostamenti traslochi soldi figli che sarà la perfetta combinazione dei due posso dire paolo famissimo con la testa dei tuoi no si è bloccato dei tuoi quello che è tagliato ok c'è stato un incidente anche molto pericoloso che potrà finire molto male che ha portato paolo a cambiare il look dei capelli c'è una causa esoterica capelli perché li ha dovuti tagliare è l'unico modo che hanno per provare a interferire proprio agire nella matrix in maniera violenta ma che significato hanno i capelli poteva essere la camicia la cintura la giacca perché i capelli sono una sono i capelli sono un'antenna sono un prolungamento dell'antenna un prolungamento di un po come i palmi delle dita no che senti la ps i capelli che sono lunghi e più se riesce a percepire diciamo come allenamento è perché poi se uno allenato e vede sente non ci fa caso ma che è un po sensibile ma ancora non riesce a vedere sentirvi nel campo i capelli sono come delle antenne che aiutano percepire il campo intorno energetico quindi ci hanno provato va va bene un messaggio finale di tutte le fiamme un miliardo e mezzo connesse sono tutte connesse col raggio dubbio diametro no ma connesso vuol dire chissà se 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 si chi è la voglia fiamma sì 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 ma se si fa così per quello che diventere così tale sai cosa dicono sì no sento il mio eco ma esse ma piazza san pietro quando boom hanno detto boom va bene loro come li vedi insieme a uscire dal core del corda devono uscire perché sennò è troppo ma cosa fanno si guardano sono mani alla mano sono signora ci sono sono si guardano come se fossero uniti dagli occhi dal cuore dalle mani sono di fronte all'altro e vedo va bene immagine finale uomo energia per lui donna energia per lei che e degli uniscono che succede unici ma fortissima se sì non devono esagerare con l'alzare le vibrazioni e spesso come allenamento poi il resto viene da solo è molto alto adesso si fatica proprio uscire da questa cosa lasciamo del cuore respirare pulsare all'unisono e tutti quelli che si sono connessi sanno cosa devono fare adesso abbiamo finito pronto a tornare